Salve a tutti i friends del vostro SuperCorestGamer, buona domenica ragazzi, sarà una domenica dove accadrà di tutto e di più perché gara di MotoGP, ma penso che questo video magari esce anche dopo, quindi la vedremo live, gara di Formula 1, la vedremo live, pagelle di Formula 1, pagelle di MotoGP, live serale di Formula 1 su Twitch a cui vi dico se volete partecipare verso le 22. Allora, giornata incredibile, ma come vi ho detto nel video voi non vi rendete conto queste due settimane che sono appena trascorse come sono state, sono state due settimane ragazzi pazzesche, di lavoro assurdo, penso di non aver lavorato ma è così tanto in vita mia, voi mi direte perché, perché sostanzialmente io alle volte no che mi addormento, magari mi rallento un po' il ritmo, non ai video, non ai contenuti perché avete visto, abbiamo portato di tutto e di più una marea di roba, quindi non abbiamo minimamente rallentato il ritmo e nei contenuti, però alle volte non mi pongo le giuste domande. Che significa questo? Significa che ho valutato il mio operato su Twitch, per esempio voi sapete che io da quest'anno sono tornato su Twitch e sto facendo un lavoro certosino che mi ha portato ad avere 10 spettatori di media alla soglia dei 75 spettatori di media, che sarà la soglia che appena raggiungerò mi farà diventare partner di Twitch. Aumentano i guadagni, aumenta la possibilità di essere visto da più persone, quindi ragazzi è una svolta importante per il canale che devo cercare di cogliere se vogliamo andare sempre verso l'alto. Mi sono reso conto che su Twitch va bene le live, il pubblico sempre crescente, ma dovevo cercare di fare format specifici innanzitutto, quindi per esempio Formula 1 Manager, un format perfetto perché è un gioco che ti permette di andare in live per 3 ore senza morire perché se fai 3 ore guidate muori, vai in live per 3 ore, c'è una grandissima interazione col pubblico, vedete chi ti segue e fai questo e fai quest'altro ha modo di poter parlare con te ed è una figata. Però c'è anche da dire che mi sono reso conto che non potevo continuare soprattutto a fare live e parlate da console su Twitch, un ambiente così competitivo e dove tutti, anche il ragazzetto di 13 anni c'è il PC e stream a livello abbastanza buono nel senso con grafica e tutto, allora ho detto no, ora basta, ora devo trovare il metodo per poter fare anch'io qualcosa di molto più professionale, allora passi YouTube perché YouTube ad oggi per chi streama su console non dà possibilità di mettere estensioni, grafiche, addobbare lo schermo, però su YouTube grazie a Dio ragazzi il pubblico c'è sempre, qualsiasi live faccio comunque ottiene successo, su Twitch il discorso è molto complicato perché entra qualcuno nella vostra live, vedi che state facendo la classica canonica live con il PC, con la PlayStation 5, senza grafiche, senza uno schermo professionale, prende e se ne va. Allora ho capito che c'era la necessità di poter mettere a schermo cose importanti, allora ho trovato un programma a pagamento perché ragazzi tutto quello che voi volete upgradare sui canali si paga, le cose gratis non servono, non esistono e sono cose che vi limitano. A pagamento ho trovato questo programma che mi permette da console di applicare le grafiche e l'ho implementato, avete visto che sono arrivate delle grafiche che hanno reso le live molto più belle da vedere, molto più equilibrate, molto più professionali per quello che voglio raggiungere io, ovvero un livello professionale. Ora ragazzi qua ci sono dei limiti in questo momento non facili da superare, la linea qua che arriva a casa mia non è una linea buona, voi lo sapete, non riesco ad avere una linea buona e sostanzialmente sto cercando di migliorare sempre di più, ma non è facile, non ho un PC potentissimo che mi permette di gestire Streamlabs, la console e tutto. Piano piano miglioreremo anche questo, però già da stare a vedere una live senza nessun tipo di grafica, di gratificazione per chi si iscrive, per chi fa un abbonamento. Ora a passare al live dove chi si abbona appare sullo schermo, chi si iscrive appare sullo schermo, cioè c'è tanta roba in più, è molto più bello. Quindi è costato due settimane di lavoro, mi ha aiutato il mio cugino Alessandro che lo ringrazio, ieri siamo stati dalle 4 e mezza alle 8 e mezza a lavorare qua per cercare di aggiustare tutto al meglio. E raga, è lavoro, ci vuole lavoro. Poi quando mi dicono, eh no però, lo youtuber grande guadagna, lo streamer grande guadagna, ma voi vi rendete conto quanto lavoro ci sta per arrivare a grandissimi livelli su YouTube, su Twitch? Voi non vi rendete conto? Molti di voi criticano i guadagni dei grandi youtuber, dei grandi streamer, perché non hanno idea del lavoro che c'è dietro. Io che sono un piccolo youtuber, un piccolo streamer, lavoro 10-12 ore al giorno, se non di più. Che passo a creare video, editarli, pubblicarli e pubblicizzarli. Fare live, pubblicarli e pubblicizzarli. Ecco perché tanti di voi non riescono, tanti di voi mi dicono, ma io ci ho provato, non sono riuscito. Perché non avete voglia di sostenere questi ritmi di lavoro che sono massacranti. Lo dovete fare il sabato, io oggi è domenica, devo fare tre live. Ragazzi, tre live e altri due video. Cioè, ma vi sembra un qualcosa di tranquillo, di normale, di umano? Non lo è. Mettiamoci che questa settimana ho enormemente dovuto trascurare il secondo canale, Super Corrist Gamer, a cui vi invito a iscrivervi. Settimana, questa qua che arriva, torna tutto il gameplay. Ho dovuto fare pochissimi video, perché non ho avuto tempo, ragazzi. Non ho avuto tempo. Avete visto che io avevo la media di 4-5 video tra tutti e due i canali, il primo e il secondo, e non ho avuto tempo, non riesco. Perché i video adesso sono molto più editati, sono molto più impegnativi da fare. Le copertine che sto facendo, le sto rendendo sempre più appetibili, perché la copertina di un video comunque è la base principale, quindi le sto facendo sempre più belle e più accattivanti. Però una copertina, prima la prendevi là, due minuti l'avevi fatto, ora ci vuole dieci minuti, un quarto d'ora. Quindi, vedete, si sta rallentando tutto il processo perché sto migliorando. Però c'è da dire che la qualità sta andando verso l'alto di brutto. Quindi, non bisogna pensare, eh, ma quello guadagni 500.000 euro l'anno a fare lo streamer. Vuol dire che si impegni. Io ho visto quanto lavora uno streamer professionista, ma che sia il masseo, chiunque. Cioè, lavora ore e ore e ore e ore e ore e ore e ore al giorno. Cose che io non farei. Io 6, 7, 10 ore di live al giorno non le riuscirei mai a fare. Cioè, io morirei. Quelli per contratto lo devono fare perché percepiscono un compenso per le ore che registrano, che vanno in live. E quindi lo devono fare. Cioè, ragazzi, non è facile. Voi dovete calcolare che siamo noi. Tutte persone, mi ci metto anch'io perché io lo sto facendo di lavoro, ok? Abbiamo messo da parte la nostra vita privata e il divertimento per fare questo. Perciò, quando molti di voi non crescono e vengono a insultare e vengono a dire ma tu qua, tu là, tu sopra, tu sotto, non si rendono conto la mole di lavoro che ci sta dietro e vengono a criticare. Non criticate perché, ragazzi, quando voi state a spasso, vi state a divertire, io sto a lavorare. Come me e tanti altri. Stiamo lavorando per voi. Voi andate a Ferragosto in giro. Io a Ferragosto ho fatto tre video. Voi andate di qua, andate di là. Noi stiamo lavorando. Quindi vedete che non è facile. E vi ripeto, la voglia mia che ho di migliorare sempre è di non stare mai fermo. Io da un anno a un altro, se vedete, miglioro tutto. Miglioro il montaggio dei video. Miglioro la qualità dei video. Miglioro la qualità delle copertine. Miglioro la qualità delle live. Tutto in miglioramento. Faccio dei format nuovi. Non sto mai fermo. Faccio sempre dei format nuovi. L'ultimo che abbiamo fatto, Super Corris Retro... No, Super Retro Corris che sta sul secondo canale. Dove porterò tanto retro gaming anche di macchine. Tutti i giochi storici che ho giocato io nella mia carriera, nella mia vita. Cioè ci stiamo rendendo conto, ragazzi, che è un lavoro enorme. Che dovete fare di fantasia. Allora, se fate gli streamer dovete sapere intrattenere e convogliare il pubblico nelle vostre live. E non è facile. Se fate gli youtuber dovete sapere creare contenuti accattivanti. Ragazzi, fare i video che faccio io. Io penso di essere probabilmente, non lo so, nei video editati e creati, probabilmente uno dei primi youtuber in Italia per contenuti creati negli ultimi due anni. Io ho creato quasi 3.000 contenuti. Cioè, ma pensare ogni 3.000 volte di mettersi davanti alla telecamera e avere qualcosa da dire o da fare. Ma non è facile, amici miei. Non è facile. Quindi, le critiche, chi critica è chi ha provato e non è riuscito. Perché sono centinaia, migliaia. Sto vedendo la statistica di Bob, quello che c'è il canale. E ha detto che gli youtuber, anzi scusate, gli streamer di Twitch che percepiscono più di 1.900 euro al mese, che è lo stipendio medio italiano, sono un centinaio. Cioè, ma ci rendiamo conto, ragazzi? Dei milioni di streamer che ci sono solo in Italia, praticamente 100 guadagnano più di 1.900 euro al mese. Il resto sta sotto questa soglia. Allora, voi mi volete dire, cioè, vi rendete conto? 100 persone sono i privilegiati, ma sono anche quelle persone che, ho visto le statistiche, fanno 200-300 ore di live al mese. Al mese 300 ore di live significa fare 10 ore di live al giorno. Allora, poi critichiamo, critichiamo, quello là, quello sopra e sotto e guadagna, e com'è possibile? Guadagna perché mentre voi state a spasso, a cazzeggiare, a farvi i selfie, a fare le minchiate, questa gente sta lavorando. E mi ci metto pure io. Non faccio tutte queste ore di live semplicemente perché ho un canale YouTube iperattivo. Ne ho due, anzi. C'ho il canale delle offerte, c'ho Fruitlab. Quindi nel mio piccolo, quello fa 10 ore di live, io faccio 10 ore di video, più le live. Perciò, capito, ragazzi, qual è il discorso? E mettiamoci che sto migliorando, implementando tutto quello che sto facendo. Sto migliorando ancora di più, ma anche il fatto di competere, di fare la Nations Cup in maniera seria quest'anno, impegnarsi, fare le gare. Altasera, tre ore, siamo stati a giocare. Cioè, vedete, è un impegno, perché io comunque, poi racchiudo tutte le categorie. Faccio Just Chatting e giochi su Twitch. Faccio le live di Just Chatting, quindi se vuole le dirette di reaction. Faccio il Racing Game su YouTube. Faccio i video parlati e giocati su YouTube. Cioè, ragazzi, e faccio anche gli sport, perché alla fin fine sto quarto in Italia nella categoria GTT di Gran Turismo. Faccio anche gli sport. Cioè, rendiamoci conto, ragazzi. E poi arriva gente a criticare. Eh no, mi dispiace. Non potete criticare, perché c'è un lavoro enorme, mi sto rompendo il culo come tantissimi altri. E quindi, se arrivano i risultati, che stanno arrivando, grazie a Dio, ovunque, perché non c'ho un canale, ma pure su TikTok, su Instagram. Io non ho un canale dove non sto crescendo da pazzi, però non rompete i coglioni, poi. Dulcis in fundo, prima di chiudere questo video vi ricordo semplicemente di iscrivervi ai miei canali, lasciare un like, seguitemi sui miei social, sono iperattivo. Lasciate un like pure là e iscrivetevi. C'è il canale delle offerte, dove appena riesco metto le migliori offerte che trovo di Amazon. C'è il canale ufficiale Supercorris84, sempre di Telegram, per le news in anteprima, i sondaggi con cui vi chiedo praticamente tutti i giorni cosa volete vedere sui miei canali. C'è Fruit Lab e c'è Twitch, dove stasera torniamo in live. In più, raga, postilla finale, ci sono gli abbonamenti. Gli abbonamenti io sto cercando di renderli più ghiotti possibili, perché voglio che chi si abbona al mio canale non è l'abbonamento quello da 2€. Quello è un supporto che è dato allo YouTuber, allo streamer, e vabbè, avete le emoticon e le cazzate varie. Su YouTube sto cercando di fare livelli di abbonamento che possono permettervi di godervi quello che trovate. Perché mi direte voi? Perché avere dei livelli di abbonamento e delle cose interessanti da proporre a chi si vuole abbonare è importante per il semplice motivo che lo spinge ad abbonarsi. Allora, nell'abbonamento oro da 10€ io vi metterò i documentari, vi metterò delle cose sul racing game, sullo sport, la Formula 1, sulla mia vita personale. E quindi è ghiotto per chi è curioso di sapere delle cose che non troverete sul canale. Nel livello di abbonamento platino, ragazzi, di 25€ al mese che non sono nulla. Perché io che studio da anni, io studio da anni, ragazzi, e non c'è stato un corso per il fitness, per la palestra, io ho pagato meno di 250€. Un corso di mezz'ora, meno un'ora. Non ci sono stati corsi di psicologia e tutte le altre cose che ho fatto io che non costano meno di 150, 200, 300, 600, 1000. Quindi 24,99€ è una cosa, è una cifra vergognosa che c'è gente, eh, non penso che lo faccia e non lo faccia. C'è gente spilorcia che non c'ha manco voglia di investire 24€. Allora, rimanete delle larve col canale YouTube di merda e continuate a non fare un cazzo. Che vi posso fare io? Abbiamo creato il video per farvi capire tutto quello che faccio io. Video per come editare col telefono. Adesso vi farò un video per Twitch, vi farò un video con cui potete sfruttare i social. Cioè io con una cifra esigua vi do anche un'assistenza diretta con me con i messaggi, parliamo e mi chiedete le cose. E in più un videocorso completo con tanti approfondimenti. Perché voglio che chi paga 24€ abbia il top. E neanche quello, va bene? Allora rimanete così. Ciao agli occhi.